Lascia nel bel mezzo della corsa con l'auto al massimo dei giri, ma la medaglia della vittoria non può che essere sua. Renzo Nisi, il comandante della Polizia Tributaria della Guerra di Finanza di Venezia, deve cedere il passo al collega Roberto Pennoni. La sua destinazione è il comando generale di Roma. Nelle forze dell'ordine va così, ci sono avvicendamenti e trasferimenti che sono poi avanzamenti di carriera. Anche se Nisi è a Venezia l'investigatore Segugio, che ha squarciato il velo sul sistema di malaffare, che deve ancora vedere i fuochi d'artificio finali. È come quando, per fare un esempio, il corridore di Formula 1 è costretto ad abbandonare la scuderia nel momento in cui la macchina corre e gareggia in modo competitivo. Io mi sento un po' così. Scendere, ovviamente mi rendo conto, è naturale ed è una cosa assolutamente legata al normale avvicendamento in questo tipo di incarichi. Però ovviamente lascio il mio cuore, soprattutto nella parte professionale del mio cuore, la lascio qui al nucleo di Venezia. Lo raccoglierò con impegno, con la consapevolezza di raccogliere un'eredità importante, ma allo stesso tempo con la serenità e la tranquillità di chi deve operare, ovviamente per il bene dell'istituzione. Sicuramente grazie anche all'eredità e al buon lavoro fatto dal colonnello Nisi con i suoi collaboratori, tutto sarà più facile. Uno tsunami più che un'inchiesta che ha portato a decapitare gli ex vertici del colosso delle costruzioni Veneto, La Mantovani e S.P.A. e del consorzio Venezia Nuova. Mose passante solo per fare il nome degli appalti più importanti degli ultimi vent'anni in regione. Pier Giorgio Baita, Giovanni Massacurati, due dominus dell'imprenditoria, finiti dietro le sbarre. Una matassa impenetrabile che con strategia felpata e di accerchiamento sta sciogliendosi come neve al sole. Abbiamo portato una metodologia d'indagine che sicuramente è stata poi vincente, è stata quella di affrontare prima la parte amministrativa e subito e quasi immediatamente dopo con un supporto di Polizia Giudiziaria di fronte alle prime avvisaglie di questioni che non andavano per il loro verso. L'insieme di queste due attività ha fatto sì che si potesse arrivare ai risultati iniziali. Ripeto, ancora una volta, questo si tratta solo dell'inizio dell'inchiesta. Per cui sicuramente questa metodologia porterà ancora in futuro, anche un futuro che io mi auguro, non molto lontano, ulteriori risultati. Nisi è riuscito a lavorare mettendo le mani su un terreno minato senza subire pressioni, forse grazie ad un appoggio incondizionato della Procura Lagunare. Mi sento di ringraziare i magistrati con cui noi abbiamo collaborato in questi anni. Hanno sempre dimostrato una grande fiducia nei nostri confronti, ci hanno supportato e ci hanno aiutato e fortificato nelle nostre convinzioni. Quindi, primo ringraziamento a loro. Per loro, per tutti loro, ci tengo a ringraziare la figura del Procuratore Capo, il Dottor Del Pino, che per me è stato un punto di riferimento in tutte queste inchieste, che vista la loro difficoltà, visti i livelli che andavamo ad attingere, sicuramente sono state singolarmente, insomma, nel loro insieme, comunque fonte anche di tensione, di difficoltà. E nel suo palmares c'è anche il Repulisti di Via Piave a Mestre, lo smantellamento dell'impero di Keke Luca Pan, il cinese ora in carcere. A me piace ricordare, quando liberammo praticamente quel pezzo di Via Piave dalla presenza di Pankeke, della sua banda, piace ricordare il tricolore steso dalla signora dal Palazzo Giallo, insomma, la signora che, vistasi finalmente liberare dal problema, insomma, ci ringraziò stendendo il tricolore alla finestra. E ci confida che gli mancheranno, oltre alle passeggiate a Venezia, anche la vita a Mestre, una città a misura d'uomo. Lui, fine investigatore, capace di aprire gli scrigni intoccabili.